Noi intanto siamo un'azienda tradizionalmente di Bologna, quest'anno festeggiamo 70 anni e quindi esserci a Bologna è quasi un must per noi, d'altra parte il settore soprattutto della macchina utensile, del controllo in misura e della robotica è il nostro settore dove operiamo da sempre e quindi per noi questa è una fiera importante, è la fiera del nostro settore. Presentiamo alcune novità, uno in particolare è legato, non so se sullo sfondo si vede, Maindo è la denominazione commerciale del prodotto che nasce un po' dalla sintesi di nome Mende in inglese che è Mente ed è un sistema di raccolta dati, noi facciamo strumenti di misura, ogni strumento raccoglie dei dati dall'officina, li fa convergere su un server centrale e questo software Maindo è colui che raccoglie questi dati, li incrocia, li elabora, trova delle correlazioni, riesce in qualche modo ad estrarre dei risultati per quanto riguarda la produzione. Digitalizzazione è un must ma è anche una richiesta che ultimamente viene dal mercato perché è Industria 4.0, d'altra parte avere strumenti di misura, utilizzarli, impiegare del tempo, non dico perdere tempo, impiegare del tempo per fare la misura e poi la misura si volatilizza perché nessuno la memorizza, è una fatica sprecata, quindi capiamo benissimo che il nostro cliente che impegna del tempo dei suoi operatori per raccogliere dei dati poi voglia raccoglierli, voglia analizzarli, voglia in qualche modo poter trarre il massimo risultato e da questo tipo di raccolta.